Confortanti, così vengono definiti dall'assessore all'ecologia Pietro Lorefice i dati di agosto della raccolta differenziata modica. Nel mese di agosto, infatti, la percentuale ha superato quota 26%, facendo registrare un più 4% rispetto ai dati già in crescita del mese di luglio. Nel periodo estivo si è passati dal 18 del mese di giugno all'attuale 26. I dati, secondo quanto afferma l'assessore, non sono completi, visto che mancano ancora diverse aziende che non hanno fornito la loro percentuale. Possiamo ipotizzare che si dovrebbe toccare a breve quota 30%. All'aumento della percentuale di differenziata, secondo i dati forniti dal comune di Modica, corrisponde una diminuzione del conferimento in discarica di indifferenziata. Nel mese di agosto c'è stata una diminuzione di 300 tonnellate di rifiuti presso le discariche. Nelle prossime settimane, intanto, comincerà il lavaggio dei cassonetti da parte della IGM. Subito dopo la raccolta verranno lavati i cassonetti, secondo un calendario che verrà pubblicato sulla pagina Facebook Ufficio Ecologia Comune di Modica. I cittadini possono segnalare eventuali disservizi contattando gli uffici preposti.